Devo assolutamente ringraziare lo sponsor di questo video, ovvero Hookies. Tantissimi di voi costruiscono il proprio PC o acquistano degli assemblati che non hanno Windows attivo. E l'idea di spendere 200€ per poterlo attivare è veramente qualcosa di folle. Hookies vi viene incontro perché potrete trovare la licenza di Windows 10 Pro a soli 13€ grazie al mio codice sconto GH20, che potete facilmente inserire durante la fase d'acquisto. Non troverete soltanto Windows, potrete anche acquistare Office, in questo caso la versione 2016 a 36€ e tanto altro ancora come giochi e carte regalo delle console. Una volta che avrete acquistato la vostra licenza, la troverete all'interno del vostro account, la copiate, andate nella sezione di attivazione della licenza e introducete ovviamente la licenza appena acquistata. L'attivazione avverrà in un istante. Per usufruire di questa offerta, grazie anche al mio codice sconto GH20, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Questo video me l'ha ispirato, diciamo, un mio iscritto. Vi lascio qua il suo messaggio. Perché effettivamente si parla poco di questa tecnologia, qualcuno la utilizza e mai, come in questo periodo storico dove la connessione internet serve realmente, tante persone che non possono avere la fibra ottica a casa si stanno chiedendo come sia possibile comunque avere una buona connettività. È ovvio che la mia esperienza è solo la mia esperienza. Molti di voi probabilmente che già hanno questo servizio si sono trovati male. Però oggi voglio vedere i pro e i contro di una tecnologia di questo tipo ed eventualmente evidenziare proprio quei limiti che portano alcune persone a dire che questa tecnologia non è poi così buona. Eolo adesso ce l'ho qui installato da luglio di quest'anno, quindi sono passati diversi mesi e mi sento in grado ovviamente di darvi alcune opinioni anche dopo aver testato questo servizio a lungo in varie condizioni meteo. Perché? Perché dobbiamo dire una cosa. Eolo si basa sulla tecnologia wireless, quindi niente cavi, soltanto antenne che comunicano tra di loro. Non voglio entrare nel tecnico perché a molte persone sicuramente non può interessare, però considerate l'aspetto tecnico un po' come può essere il vostro dispositivo connesso alla wifi di casa. Allo stesso modo la vostra antenna, poi ne parliamo nello specifico, sarà connessa a ripetitori di Eolo intorno a voi. Detto questo in maniera molto molto semplicistica, non sto parlando ovviamente di cose super tecniche, vi parlo un po' di quelli che secondo me sono i difetti di una tecnologia di questo tipo. Ah, cosa fondamentale, questo video non è sponsorizzato, eh? Questo video è nato, come visto prima, da un'idea di un mio iscritto e semplicemente ho pensato che fosse sensato portarvi questa mia esperienza e basta. Giusto? Per far chiarezza, ok? Ecco. Partiamo dalla questione installazione. Per poter far funzionare Eolo bisogna installare sul proprio tetto, possibilmente, o su un balcone, se ci troviamo comunque in un piano abbastanza alto, un'antenna. Un'antenna pari o comunque simile a quelle di Sky o comunque servizi simili, ma molto più piccole. Non so dirvi precisamente la dimensione, ma penso tra i 30 e i 40 centimetri al massimo di diametro. Se avete già un'antenna, normalmente chiunque ce l'ha sul tetto, si può tranquillamente attaccare al palo preesistente, non serve quindi far nessun tipo di intervento infrastrutturale. Qualora non aveste questo tipo di supporto e voleste metterla magari sul vostro balcone, è probabile che serva qualcos'altro. In teoria, il tecnico arriva già con tutto il necessario per poterla installare, compreso di 20 o 25 metri di cavo che vi permette di collegare l'antenna al router. O meglio, prima l'alimentatore dell'antenna che poi va al router, però insomma, questi sono tecnicismi abbastanza inutili. Quali sono le problematiche in una cosa di questo tipo? Beh, che se voi siete proprietari di casa, avete una villetta, una villetta schiera, e quindi il tetto è vostro e potete fare tutto quello che volete, si fa in un attimo, il tecnico sale sul tetto, controlla la disponibilità delle antenne EOLO sul territorio e vi assegna la migliore. Qualora invece viveste magari in un appartamento, quindi in una palazzina, dove avete anche un amministratore che decide insomma quello che i condomini possono fare, o delle riunioni condominali per poter decidere i vari interventi, beh, sicuramente dovrete passare da questo iter di accettazione e di approvazioni che sicuramente un proprietario di casa non dovrà fare. Ovviamente l'essere in un condominio porta anche altri svantaggi, perché se vi trovate ad esempio ad un piano intermedio e il tetto dove ci sono le antenne si trova a 5-6 piani da voi, dovete considerare che bisognerà tirare un cavo dall'antenna fino al vostro appartamento e oltre 20 metri dovrete pagarlo voi. E tutti gli interventi extra, compreso anche i cavi più lunghi, beh, saranno a carico vostro, oltre ai costi di attivazione qualora ci fossero, rispetto ovviamente alle varie offerte che EOLO propone di giorno in giorno. Diciamo quindi che a parte i limiti tecnici che vedremo tra poco, quelli dedicati proprio al mondo della connettività wireless, ci sono anche questi problemi logistici ai quali bisogna comunque andare incontro. Ma veniamo proprio a parlare ora della connettività. Una volta che voi avrete attivato il servizio EOLO, il tecnico salirà sul tetto o sul vostro balcone, qualora vi trovate comunque a un piano molto alto, e farà il primo check delle antenne presenti sul territorio intorno a voi. Sarà lui quindi a dirvi quale vera connessione potrete avere, o una 30 MB o una 100 MB. Non vuol dire quindi che se voi state attivando una 100 MB realmente potrete averla, dipenderà da tantissimi fattori. Il primo è legato proprio all'aspetto visivo, ovvero le due antenne, l'antenna che installerete e il ricevitore-trasmettitore, dovranno comunicare visivamente. Perché se in linea d'area non hanno assolutamente nessun tipo di ostacolo, beh, è molto probabile che riceverete a casa la 100 MB in download e 10 in upload. Ma il tecnico potrebbe dirvi che questa 100 MB non è così stabile, ne ho una lì, o meglio, ho un'antenna, veramente a un tiro di schioppo, e vi dà però una 30 MB stabile. Ecco, non è certo la cosa migliore che vi possa accadere, ma è un'eventualità. La cosa buona è che solo dal momento in cui voi accetterete, dopo la prova del tecnico, di attivare realmente il servizio, vi verranno scalati i soldi e quindi fatto il contratto. Prima che il tecnico faccia la verifica e che voi accettiate questo aspetto, nessuno vi farà attivare nessun tipo di contratto. Questa è una cosa alla quale io tenevo fin dall'inizio, perché non ero convinto che qui dove mi trovo ora potesse ricevere la 100 MB. Quindi la prima domanda che ho fatto al call center è stato sì, ma io attivo adesso, ma poi se non dovesse avere la 100 MB cosa succede? E lì mi è stato confermato che soltanto in fase di verifica io posso decidere o meno se proseguire col contratto. E questo penso che sia un aspetto molto positivo. E queste ragazze sono sostanzialmente le due problematiche più grosse per quanto riguarda il servizio di Eulo. Per mia grandissima fortuna, quando il tecnico è arrivato, ha fatto subito il check sulla prima antenna che vedeva praticamente ad occhio e ha verificato la connettività 100 MB e 10 in upload proprio pulita con un segnale molto molto chiaro e forte. Il tecnico non ha fatto nessun'altra operazione se non installare l'antenna sopra il tetto, attaccandola praticamente al tubo dove c'è adesso l'antenna, e testare il servizio. Sono stato poi io, grazie anche al cavo che mi ha lasciato quei 20-25 metri di cui vi parlavo prima, a sfruttare le canaline della casa per portare la rete giù al piano terra dove mi trovo ora. Naturalmente se avete scelto il comodato d'uso vi rimarrà anche un router wireless da poter utilizzare in casa che tutto sommato non funziona male, anche perché è un frizzo e sapete benissimo che hanno una grandissima qualità. Quindi mi sono trovato bene fin da subito. Ma veniamo ora alla cosa più importante che sicuramente molti di voi si stanno chiedendo e che fa parte proprio della mia esperienza personale. Come vi ho detto, fase di attivazione, fase di installazione è andato tutto per bene, ma dalla teoria alla pratica le cose possono cambiare. Come vi ho detto, abbiamo utilizzato questa rete a partire da agosto fino adesso. E sicuramente sarà l'unica soluzione vera che utilizzeremo da qui in poi, perché purtroppo nel mio paese la fibra arriva al cabinet, ma che si trova a troppi metri di distanza da casa. Infatti, sebbene Tim mi garantisca la possibilità di attivare una 200 MB, dice anche che molto probabilmente a casa mia, al massimo, per colpa della distanza e del fatto che comunque siano cavi e infrastrutture un po' vecchie, mi possa arrivare soltanto la 30 MB. E visto che io ho bisogno soprattutto di un upload buono e costante per caricare i video, che adesso sono pure in 4K, avevo bisogno di qualcosa in più. Quindi per ora c'è andata bene così. In giro leggo spessissimo di persone che si sono trovate male alla lunga e persone che dicono che durante, soprattutto i temporali, o comunque con un metro piovoso o nuvoloso, le cose non funzionano per niente. I test che vi porto oggi sono fatti in una situazione abbastanza negativa. Vi faccio vedere qui infatti le immagini della giornata di oggi. Tanto nuvoloso, pioggia e cielo praticamente completamente coperto. E tra poco ci spostiamo sul computer, così che vi possa far vedere effettivamente in tempo reale qual è il test di velocità e che cosa riusciamo ad ottenere. Considerando anche che in questo momento io sono connesso via wireless al mio router e non via cavo. Però è comunque una connessione wireless super veloce, quindi 100 MB in download e 10 in upload li posso ricevere completamente anche senza essere via Ethernet. Vi posso garantire che quando ovviamente ci sono le giornate di sole splendide, il cielo è terzo e pulitissimo, riusciamo a ricevere praticamente 90-95 in download e l'upload rimane sempre costante intorno ai 10-11 a volte. Però insomma sono le solite variazioni di upload che succedono su ogni linea. Ma direi che ci spostiamo un attimo sul computer, così vediamo in tempo reale la situazione. Magari facciamo il test due o tre volte così da avere una media un po' più sensata. Ok ragazzi, partiamo subito con il test. Come vedete comunque riesce a stare tranquillamente sopra ai 60 MB per secondo in questo momento, con dei picchi intorno anche ai 70. E ovviamente come vi ho detto un attimo fa, il tempo oggi è veramente veramente pessimo. Abbiamo avuto in questo momento un download di 61.6, ma l'upload come vedete è costante intorno ai 10. Facciamo magari questo test due o tre volte, cambiamo anche servizio, andiamo a utilizzare Speedtest, quello famosissimo che tutti utilizzano così per vedere se abbiamo dati diversi. Comunque questo è già un buon risultato, considerando che spesso e volentieri neanche questi dati riusciamo mai a avere. Ok, siamo qui su Speedtest, facciamo partire e vediamo il risultato. Diciamo che vedendo anche qui il risultato di prima non era tanto diverso, abbiamo avuto un picco decisamente più importante in questo caso, perché il server al quale è connesso probabilmente è anche più vicino. Infatti siamo a 80 di download. Per quanto riguarda l'upload siamo sempre costanti sui 10, questo dato praticamente non cambia mai, a meno di quelle situazioni dove proprio non c'è connettività e lì ci possiamo fare ben poco. Però siamo stati tra i 60, 63 di prima e gli 80 adesso, quindi direi una media di 70 e passa, l'upload è sempre costante. Direi quindi che possiamo ritenerci più che soddisfatti da questo punto di vista. Beh ragazzi, i dati li avete visti voi stessi. Allora, rispondendo un po' alle varie perplessità e preoccupazioni che la gente ha quando guarda i servizi wireless, vi posso dire una cosa. In situazioni come oggi avete visto si è comportato comunque molto bene, sebbene il tempo sia bruttissimo, piova, ci siano nuvole e il cielo sia completamente coperto. Ma vi posso anche dire che purtroppo, ahimè, quando ci sono temporali molto intensi, beh, la connettività muore completamente. E per temporali molto intensi intendo quando ci sono proprio quei muri d'acqua che neanche ad occhio nudo si vede a più di 30 metri. Ecco, in quel caso neanche l'antenna riesce a vedere la sua antenna, il suo ricevitore e trasmettitore, di conseguenza la linea proprio muore totalmente. Per fortuna in quei casi il 4G del telefono ha sempre funzionato comunque, in questo modo aveva una sorta di rete di backup per poter fare i miei lavori. È vero anche che situazioni temporali così intensi possono durare dall'1 alle 2 ore e non sono così frequenti. Per darvi un dato realistico, in tutto questo lasso di tempo è successo soltanto due volte, di conseguenza non mi sento di demonizzare così tanto una rete, soprattutto quando magari al posto di una 100 MB sono costretto a utilizzare una 7 MB terrificante via cavo perché altro non ho. Quindi diciamo che il rischio che la rete non funzioni è talmente basso rispetto alla possibilità comunque di avere una rete veloce che posso tranquillamente sorvolare. Sebbene io abbia bisogno della rete tutti i giorni, piuttosto quel giorno o mi connetto via 4G e faccio il caricamento dei file tramite il 4G oppure attendo che il tempo migliori. E come si comporta in gioco e in streaming? Allora, quando la rete è buona e quindi non ci sono problemi come detto prima, quindi quando si perde la connettività, potete tranquillamente fare streaming su Twitch a 1080p 60fps senza alcun problema perché l'upload è stabile, normalmente tra i 10 e gli 11 MB per secondo. E visto che per Twitch è stata tra i 4.500 di bitrate e i 6.000 avete ampio spazio di manovra. Per giocare anche lì nessun problema, ultimamente ho notato un po' di saturazione della banda soprattutto nelle ore serali perché secondo me soprattutto in questa zona tantissime persone hanno attivato servizi di questo tipo non potendo avere la fibra ma dovendo comunque studiare o lavorare da casa a causa del lockdown prima e di queste situazioni temporanee adesso. Ma parliamo comunque di cose fattibilissime. Io gioco soprattutto a Valorant dove il ping è fondamentale, ci sono state situazioni un po' fastidiose, ma diciamo che la fascia oraria che subisce soprattutto questo aspetto va dalle 9 alle 10 al massimo. Poi va a sistemarsi e le cose vanno lisce come sempre. Per quanto riguarda invece la fruizione di servizi come Netflix o qualsiasi altro servizio di questo tipo, anche lì nessun problema. Potete tranquillamente avere i video in 4K, fare lo streaming dei vostri film preferiti perché comunque 100 MB di rete anche se dovesse andare alla metà basterebbero, avanzerebbero per sfruttare questo tipo di servizi. Personalmente ragazzi dovendo un po' ricapitolare il tutto devo dire che l'esperienza quantomeno finora è stata più che positiva. Mi sono trovato davanti a un'azienda che lavora bene, forse ho stato anche fortunato perché comunque il tecnico che è venuto a installare il tutto, è una persona molto molto competente e ovviamente non sono gli stessi tecnici che girano per tutta Italia perché io lo si affida a tecnici di zona, territoriali. Quindi come sempre questo aspetto va un po' a fortuna. Ad ogni modo lui è stato molto gentile, mi ha consigliato anche sulle varie scelte da fare, sia su quale ripetitore scegliere, su quale connessione utilizzare e soprattutto mi ha dato dei consigli anche per cablare casa sebbene non l'abbia fatto lui. Probabilmente se avessi chiesto a lui di farlo avrei dovuto pagare il suo lavoro giustamente e avrebbe fatto tutto il lavoro. Ma visto che mi piace lavorare anche in casa, fare le cose da solo, ho fatto tutto io e comunque non ho dato fuoco alla casa, la rete funziona, quindi direi che l'esperienza è stata positiva. Per quanto riguarda i costi, beh ho avuto la fortuna di usufruire di un'offerta in quel periodo sul sito di Eulo pagando 19 euro al mese e l'attivazione è costata alla metà, se non ricordo male 80-90 euro, una roba di questo tipo. Non sono andato a vedere in questo momento la situazione dei prezzi su Eulo, però anche lì dipende molto dal budget che avete a disposizione, se ritenete quindi talmente utile avere una connessione più rapida rispetto a quella che avete, in tal caso ovviamente una spesa di 20-25 euro fino a un massimo di 30 euro al mese può essere più che sopportabile e di conseguenza penso che vi possiate trovare bene. Ripeto ragazzi, questa è la mia esperienza ovviamente, che possa essere stato più o meno fortunato, questo non lo so, però obiettivamente non posso dire nulla di negativo se non per i limiti tecnici che purtroppo questo tipo di tecnologia ha e che sono totalmente indipendenti da Eulo o qualsiasi altro operatore che offre servizi simili. Qualora ovviamente aveste domande, voleste sapere qualcosa in più, per quanto io possa saperne, vi risponderò sicuramente e lasciate una domanda qui sotto nei commenti. Penso veramente di aver detto tutto, non mi viene in mente assolutamente nient'altro, quindi come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video. A presto!